L'ex ministro dell'integrazione, nonché membro della Commissione Libertà Civile del Parlamento Europeo, Cecil Chiange, è stata in Puglia per una visita di poche ore. Ha visitato a Monte Leone di Puglia un centro dedicato ai migranti. Tra l'altro, dopo nemmeno due mesi di permanenza, uno di loro andrà a lavorare in una ditta di serramenti. Chiange era accompagnato dall'europarlamentare Elena Gentile, insieme al sindaco di Monte Leone Campese, che ha fatto conoscere le strutture in cui vengono ospitati i migranti. Uno è il momento per far conoscere, da un lato, gli elementi positivi che la provincia di Puglia ha sperimentato sul tema dell'accoglienza dei rifugiati e nei flussi di migranti, e dall'altro per mostrare le tante criticità che ancora esistono. Tra l'altro, la voce del Parlamento Europeo è importante, nella stessa Chiange ha acquisito informazioni in Natalmerito. Nel pomeriggio di ieri, la delegazione ha visitato l'ex ghetto di San Severo. Mimmo Siena, Speciale News Web 24.